Ci racconti il progetto che realizzerai con il premio Cantamessa? Sì, io mi occupo in particolar modo di pazienti con disturbi neurocomportamentali e in particolar modo del disturbo dello spettro autistico. Seguiamo molti, molti pazienti, sappiamo che il disturbo dello spettro autistico è molto prevalente nella popolazione generale, la prevalenza è di circa 1 a 60, attualmente secondo le recenti stime, però purtroppo non si conoscono molto bene le cause genetiche che appunto sottendono il disturbo e il mio obiettivo appunto è quello di cercare di riconoscere cause genetiche mediante delle tecnologie di nuova generazione per poi aprire magari la strada dei trattamenti specifici o terapie efficaci, mirate. Che cosa significa per te essere medico? Per me essere medico significa prendersi cura della gente e spesso non è possibile curare ma penso che lo sforzo sia sempre comunque possibile quello di prendersi cura, diciamo, della persona, non del paziente. Quali sono secondo te le caratteristiche che dovrebbe avere un buon medico? Sicuramente essere empatico, magari sensibile al problema, capire il problema della persona e come desimarsi in esso e cercare di fare il possibile, essere sicuramente generosi, qualche volta uno deve mettere da parte i propri problemi per accogliere quelli degli altri.